Il macro mondo dell'aceto balsamico si può dividere in tre grandissime categorie. I condimenti, che a sua volta si dividono in condimenti scuri, condimenti bianchi e condimenti aromatizzati. L'aceto balsamico di Modena IGP, un altro macro gruppo, e ovviamente l'aceto balsamico tradizionale di Modena. Sono prodotti a cui l'azienda ha l'opportunità di poter mettere tutto il proprio know-how, la propria ricerca e sviluppo. E quindi non si prende nient'altro che le nostre uve, si seguono i percorsi produttivi che sono molto simili a quelli dell'aceto balsamico tradizionale per quello che riguarda i condimenti scuri, e si tirano fuori dei veri e propri lisir, prodotti da tutti i giorni, come il nostro Saporoso, un prodotto a livello organolettico estremamente particolare, equilibrato, armonico, dolce. Un prodotto che, come diciamo noi, è veramente un fiore a rocchiello dell'azienda. Ma anche nel macro gruppo dei condimenti bianchi, come il prelibato, un balsamico di nostra idea, un prodotto che viene da delle uve bianche, centrifugate invece che cotte, messe in botti di frassino, invecchiate per lungo tempo, in botti che non danno colore, poi nuovamente filtrati. Insomma, tanti piccoli segreti che io, il mio enologo e mio papà, traghettiamo ai posteri. E questo è un prodotto meraviglioso. Il prelibato è un'innovazione, un qualcosa che si può utilizzare sul pesce. È un prodotto che ha delle caratteristiche estremamente balsamiche, pur essendo trasparente. E poi ci sono i condimenti aromatizzati. E qui la vera ricerca e sviluppo che io e il mio staff facciamo quotidianamente è quella di cercare di creare dei mix, delle ricette di prodotti dal grande patrimonio italiano e non solo, come lo zafferano o per esempio il tartufo oppure le arance. Ecco, cerchiamo di mixare questi ingredienti come vere ricette in maniera molto alchemica al fine di tirar fuori, insieme ai nostri aceti di vino e appunto ai condimenti, questi prodotti di un utilizzo estremamente nuovo. Acetai Amalpighi produce un aceto balsamico di Modeni GP denso, ovvero un prodotto che ha una densità ben specifica. Ed è un prodotto molto semplice ma estremamente particolare. La sua semplicità è che è una ricetta. Una ricetta composta da mostocotto, da aceto di vino, nel nostro caso invecchiato per svariati anni e una piccola particella di aceto di vino invecchiato oltre dieci anni. Questo viene mixato in una maniera molto particolare, molto sapiente e molto attenta e messo per 60 giorni in grossi tini. Successivamente, grazie al CSQA che è un ente di certificazione, quando il prodotto ha un'acidità ben specifica che non deve essere al di sotto del 6% e una densità dichiarata all'inizio della stagionatura, il prodotto viene certificato e imbottigliato. È una ricetta dove le particolarità delle varie maison sottolineano l'attenzione nell'utilizzare mosticotti invecchiati, nell'utilizzare aceti di vino che hanno avuto la fortuna di rimanere per svariati anni in bariche che li hanno impreziositi di aromi e di sapori. E successivamente in una bottiglia da 250 ml, nel nostro caso disegnata dal mio staff e in prima persona da me, sottolineano la particolarità di questo grande prodotto, l'aceto balsamico di Modena e GP. Il re degli aceti, un prodotto unico, un prodotto 100% di mostocotto che la mia famiglia porta avanti da 5 generazioni. Abbiamo la fortuna di avere una ricetta lasciata da un nostro antenato che ci dà i giusti consigli che tuttora noi traghettiamo e lasciamo ai nostri figli, come mio padre ha lasciato a me.